Le trentennali carriere di due artisti, racchiuse in un live pieno di contaminazione. A partire dai successi di Abitabile, aperti alle sonorità della world music, l'artista ha parlato della necessità della disamericanizzazione del suono e del linguaggio per recuperare i suoni originali che derivano dalla musica greca e la propria lingua madre. Esempio, la piccola e potente pentarpa, costruita appositamente. Molto apprezzate le interpretazioni dei testi poetici offerte da Peppi e Servillo, talento completo come attore musicista che è spaziato dai successi degli Avion Travel all'esplorazione e rielaborazione in chiave acustica della canzone napoletana. Io no, io non mi sono mai, sentito così fio, non domandarmi come mai così, così lontano che vicino al mondo, al suo coraggio, il coraggio di ogni giorno. E' una kermesse culturale di alto livello dove si alternano appunto musica, teatro ma anche arte e anche fotografia, poi cabaret, c'è la città palcoscenico, quindi tutta la città in festa, insomma siamo molto soddisfatti.